ciao a tutti da jgr studios il nostro canale dedicato alle lezioni recensioni e tutorial sull'audio recording non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati in questa lezione ci occuperemo di studio one remote ossia l'applicazione che gira su ipad e che ci permette di collegare il nostro ipad direttamente a studio one pro per poterne controllare i parametri e anche tutti quanti i controllers per prima cosa accertiamoci che l'ipad e studio one quindi la macchina dove sta girando studio one pro siano collegate alla stessa rete sia wifi sia ethernet in questo modo studio one remote appena lanciato studio one pro troverà l'applicazione collegata e cliccandoci sopra chiederà appunto di aprire una song in questo caso apriamo una song dei black jasper che sto registrando in questi giorni ed automaticamente studio one remote sarà in grado di collegarsi al mixer vi ricordo che l'applicazione è gratuita e quindi scaricabile dall'app store funziona su ipad su iphone e ovviamente anche su android una volta aperta la song dentro studio one pro l'ipad pro riconoscerà immediatamente tutto il mixer la navigazione è semplice scrollando appunto destra e sinistra possiamo navigare attraverso i canali apriamo anche il mixer all'interno di studio one e notiamo come sia immediatamente reattivo il fader senza alcun tipo di latenza questo per poter controllare velocemente il mixer dal nostro ipad in maniera remota quale sono le comodità innanzitutto quella di poter navigare all'interno della song e allargare alle battute o ai minutaggio e quindi navigare velocemente all'interno della song e poi premere stop o rec passiamo un po il volume torniamo dal principio poter poi lavorare all'interno del mixer utilizzando i pulsanti appunto di mute di solo di record se andiamo sulle nostre tracce vedremo poi come configurarle velocemente le altre funzioni appunto sono il mute il solo e il monitoring in qualora ci fosse un ingresso già collegato a sinistra troviamo il menu di esclusione dei mute generale l'esclusione dei solo generale poi la selezione dei fader degli insert che si trovano nella parte superiore del mixer che vediamo qui all'interno di studio one pro i send che sono questa parte sottostante e il qmix ossia il mix che noi possiamo fare in base alle tracce che apriamo per la cuffia stessa in questo modo potremmo fare un mix esclusivamente per chi sta registrando la voce o le chitarre oppure creare più ascolti quindi più submix più qmix in questo caso quindi più uscite cuffie e quindi dirigerle ai differenti musicisti mentre viene la sessione di registrazione torniamo sui fader cliccando in basso qui avremo la possibilità di aprire il nostro macro controls che abbiamo già visto in altre occasioni in più abbiamo la possibilità di utilizzare questo pad xy che vediamo qui a sinistra questo ci permette appunto di aggiungere un controllo supplementare ai sintetizzatori chiudiamo la macro con il pulsantino a destra apriamo le caratteristiche del canale e cliccando sul plugin ovviamente avremo la possibilità di aprire il plugin in studio one i parametri sono minimi come vediamo quindi in questo caso abbiamo soltanto il volume e l'ingresso della scheda audio torniamo su un canale dove possiamo aprire ad esempio un plugin relativo in contenuti all'interno di studio one per vedere come sia possibile quindi trovare più facilmente tutti i parametri di intervento in questo caso abbiamo la possibilità di lavorare sul gain delle curve all'interno dell'equalizzatore giustamente possiamo lavorare sul pan il volume l'abbiamo visto accendere o spegnere gli insert quindi del canale e quindi chiudere gli effetti in maniera rapida e nella parte destra quella dove si trova il master poter lavorare in modalità mixer in maniera più dettagliata andiamo ad esempio sul mixer master alzare cliccando sopra o abbassare il click in ascolto possiamo rendere mono la traccia e quindi di conseguenza potessi spostare sulle tracce di input vedendo sotto e quindi scegliere questo caso l'accordatore lo vediamo eccolo qui e tutti gli altri plugin messi in fase di insert ovviamente possiamo controllare anche gli ingressi degli insert abbiamo i levels eccolo qua questo io entrando in un canale digitale mi viene evidenziato adat e maico il preamplificatore che sto usando in questo momento gli out quindi gli out separati che ho a disposizione dalla mia scheda audio e la possibilità di muoverci su altre funzioni in basso troviamo la transport bar quindi play stop e record velocemente il loop qualora volessimo farlo la velocità del metronomo che possiamo appunto modificare da qui la possibilità di navigare attraverso i markers quindi pre o andare sul chorus la possibilità di aggiungere i markers quindi potrei spostarmi in questo punto cliccare su più ed aggiungere un nuovo marker che verrà poi visualizzato anche all'interno dell'arrangiamento vediamo le funzioni a livello di recording che sono quelle più interessanti e quelle più utili perché perché normalmente ci spostiamo lontano dalla nostra piattaforma per andare a registrare o la batteria o le chitarre o anche la voce quindi poggiamo il nostro ipad sul leggio e controlliamo la do per poter registrare più tracce di voce come fare spostandoci nella parte sottostante nella sezione macro possiamo appunto muoverci ad esempio nell'instrument track togliamo il mixer e aggiungiamo ad esempio una traccia di instrument nel caso delle tracce audio possiamo andare nella sezione audio ho già creato delle macro bounce track audio track mono e ad layer ma possiamo vedere come fare quindi facciamo edit aggiungiamo ad esempio la possibilità di aggiungere una traccia stereo non l'ho fatto ancora scendiamo in basso andiamo su track aggiungi traccia stereo in questo caso è abbastanza semplice chiudiamo l'edit e quindi ogni volta che clicchiamo su questo pulsante verrà aggiunta una traccia stereo eccola qui o una traccia mono per poter registrare la traccia mono è stata inserita controlliamo all'interno del mixer la traccia mono in questione abbiamo selezionata premendo sul rack verifichiamo che il segnale sia in ingresso cliccando sulla freccina vediamo che entra da maico esce sulle casse quindi ho la possibilità di controllare anche il qmix della voce facciamo una prova e registriamo test prova 1 2 3 ok perfetto torniamo indietro per esempio utilizzando il nostro locatore andiamo in play test prova 1 2 3 perfetto adesso avremo la necessità per esempio di aggiungere un layer quindi torniamo sulla nostra macro ho già aggiunto un pulsante di cambia layer aggiungiamo il layer e possiamo registrare altre tracce questo per poter lavorare in maniera tranquilla e distante dalla do nel momento in cui stiamo registrando la voce tutte le altre funzioni possono essere aggiunte appunto nelle macro quindi sia quelle riguardanti la transport bar che il view console edit gli event l'automazione l'audio e gli instrument e ovviamente limitato alla visualizzazione dell'arrangiamento ma questo forse in future versioni verrà implementato spero che questa lezione vi sia stata utile vi aspetto ai miei seminari al corso professionale e dal corso online presso il mio studio dove gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice e professionale verrete a contatto con le mie tracce affronteremo i vostri mix insieme li finalizzeremo nella fase di mastering continuate a seguirmi su facebook youtube e music off non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti sotto ciao a presto